ciao a tutti oggi continuiamo con l'esplorazione delle proprietà degli shape layer in particolare vedremo il fill e lo stroke cioè tutto ciò che riguarda il colore di riempimento e il contorno degli shape layer bene cominciamo con il creare uno shape layer andiamo a prendere dagli strumenti di disegno lo strumento ellisse e ci disegniamo un cerchio al centro della composizione benissimo come vedete in questo caso il cerchio ha un riempimento rosso e un contorno nero se noi nella timeline andiamo aprire le proprietà di questa forma che si chiama ellipse 1 vediamo che ha quelle quattro sezioni che abbiamo visto nella lezione precedente la prima e la quarta ormai le conosciamo oggi vediamo la sezione fill e stroke innanzitutto prima di aprire il contenuto delle due sezioni noi sappiamo già fin dalla prima lezione degli shape layer che noi possiamo manipolare il colore del fill e dello stroke direttamente dalla barra degli strumenti qua in alto per esempio adesso se volessimo cambiare il colore da rosso in un altro basterebbe cliccare sulla palette dei colori a fianco a fill si apre la palette dei colori e io posso cambiare il colore ma lasciamo il rosso stessa cosa per lo stroke c'è la sua palette dei colori e lo posso cambiare da qua benissimo per quanto riguarda lo stroke posso anche cambiare la larghezza dello spessore agendo su questo numero qui a fianco alla palette dei colori dello stroke mi permette di allargare stringere il contorno oltre a cambiare i colori e lo spessore posso anche cambiare il tipo di colorazione per esempio se clicco su fill si apre questa piccola finestra che mi permette di scegliere il tipo di colorazione cioè nessuna colorazione tinta unita sfumatura lineare e sfumatura radiale ok rimettiamo il colore tinta unita e diamo di nuovo ok stessa cosa la posso fare per lo stroke ma adesso magari non la facciamo bene adesso però veniamo a vedere le stesse proprietà all'interno dello shape layer innanzitutto stroke e fill gerarchicamente sono messi in un modo particolare lo stroke è messo in alto e il fill sotto tanto è vero che il bordo è sopra il fill ma volendo noi possiamo invertire la gerarchia del file dello stroke se io per esempio prendo fill e lo trascino sopra stroke adesso la situazione è cambiata cioè il riempimento è sopra e il contorno è sotto infatti vedo mezzo contorno l'altro mezzo è coperto dal fill quindi è possibile invertire l'ordine del riempimento e del contorno altra cosa che posso fare qui all'interno della timeline è attivare o disattivare lo stroke e il fill attraverso quel occhiolino che sta qui sulla sinistra per esempio se io non volessi lo stroke basterebbe spegnere l'occhiolino a fianco e come vedete lo stroke è sparito stessa cosa per quanto riguarda riempimento se non volessi il riempimento basterebbe spegnere l'occhiolino a fianco di fill e sparisce anche il fill quindi disattivarli o attivarli si può farlo direttamente dalla timeline accendendo o spegnendo l'occhiolino a fianco alle due proprietà anziché andare nella finestra che avevamo visto prima addirittura si potrebbero eliminare del tutto se io per esempio seleziono fill e premo il tasto canc io lo elimino del tutto ecco se dovessi trovarmi in questa situazione per riattivare il fill non si può andare nella barra degli strumenti e cercare di riattivare il colore del fill per esempio aprendo la palette dei colori e assegnando un colore perché questo non ricrea un fill se io non ho un fill e lo voglio aggiungere all'interno dell'ellisse devo selezionare la forma nella quale voglio aggiungere il fill quindi clicco su ellisse vado qui sulla destra dove c'è scritto add clicco su quella freccia che c'è accanto e scelgo fill dall'elenco di queste proprietà a questo punto si riaggiunge un nuovo fill all'interno dell'ellisse adesso però apriamo proprio il contenuto delle due sezioni fill e stroking cominciamo da fill clicco sul triangolo a fianco a fill e vediamo che cosa trovo all'interno ho soltanto due proprietà una è color e l'altra è opacity quindi posso cambiare il colore del fill da questa palette dei colori per esempio ci clicco sopra e lo cambio in blu e fare questo equivale a quello che già facevamo attraverso la barra degli strumenti quindi cliccando di nuovo sulla barra degli strumenti e assegnando al rosso avete visto che immediatamente si è modificato anche qua poi c'è la proprietà opacità che posso portare a zero o a cento benissimo adesso chiudiamo la sezione fill e andiamo a vedere invece la sezione stroke che cosa ci offre anche qui abbiamo una palette per i colori al momento è nero e se volessi cambiare il colore lo posso fare direttamente da questa palette qua ma come per il fill il colore lo posso cambiare da qua oppure lo posso cambiare anche dalla palette su in cima poi abbiamo ancora la proprietà opacità possiamo abbassare alzare e poi abbiamo il parametro che ci gestisce lo spessore del contorno eccolo qua che è equivalente al numero la su in cima se lo modifico la su in cima vedete che lo stesso numero si aggiorna anche qua sotto adesso prima di proseguire a vedere le altre proprietà chiudo per un secondo il contenuto di stroke 1 io posso all'interno degli shape layer duplicare tutto ciò che voglio e in questo caso vorrei duplicare lo stroke cioè avere due contorni diversi quindi seleziono lo stroke control d e duplico lo stroke ho un contorno 1 e un contorno 2 benissimo adesso apro il contenuto di tutte e due le proprietà nello stroke 2 che è quello che sta al di sotto gli allargo lo spessore e gli cambio anche il colore per esempio clicco sulla palette dei colori e gli assegno un facciamo blu quindi come vedete è possibile avere più contorni con spessore diverso benissimo adesso però eliminiamo lo stroke numero 2 quindi lo seleziono e lo cancello quindi di nuovo un fill e uno stroke adesso prima di vedere le restanti proprietà dello stroke dal line cap in giù creiamo con il pennino una linea aperta quindi prendo lo strumento pennino e disegno più o meno una cosa che potrebbe sembrare una specie di simbolo di radice quadrata però attenzione di questa forma io voglio soltanto in questo caso il contorno e non voglio il fill quindi apro il contenuto di questa forma che è shape 1 clicco sul triangolo e disattivo fill 1 spegnendo l'occhiolino al fianco a sinistra a questo punto mi rimane soltanto il contorno adesso apriamo le proprietà di contorno stroke 1 e vediamo un attimo queste proprietà qua cominciando da line cap magari prima riduciamo un attimo lo spessore che è un po troppo largo benissimo allora dicevamo line cap che cosa gestisce gestisce l'aspetto del tracciato ai due estremi cioè dove inizia e dove finisce bat cap taglia di netto il tracciato con un taglio dritto se invece cambiamo la voce da bat cap a round cap le estremità sono arrotondate come si vede qua e se invece scegliamo projecting cap è simile al primo però come vedete si proietta oltre il limite del tracciato che è quella linea azzurra quindi tra bat cap e projecting cap la differenza è che bat cap è una linea più corta e projecting cap è un filo più lunga bene torniamo su bat cap la proprietà line join invece gestisce l'aspetto del tracciato nei punti intermedi cioè qua qua in questi angoli qua se usiamo miter join si comporta così come vedete se invece voglio arrotondare gli angoli cambio la voce da miter join a round join ed ecco che gli angoli sono arrotondati adesso ma non le estremità le estremità sono gestite da line cap benissimo e se invece usiamo la terza voce bevel join sono smussate vedete in questo caso tutto è lo stesso modo torniamo sulla prima voce che è miter join in questo caso vedete che c'è una differenza tra questo angolo e questo angolo qua e quello qui vediamo le punte complete dell'angolo sia qua sia là mentre qui è troncata prima questo dipende da il valore miter limit che è 4 che è troppo basso quindi quando ho un angolo molto stretto e voglio comunque far vedere la punta devo aumentare questo numero qua quindi da 4 aumenta un certo punto ecco vedete che adesso anche quest'angolo è completo e non troncato a metà quindi tutto dipende da questo miter limit se lo mettete a zero tutti gli angoli vengono troncati e a mano a mano che aumentate tutti gli angoli anche i più stretti si completano di nuovo benissimo adesso l'ultima sezione che forse la più interessante che è dashis dashis gestisce l'aspetto del contorno al momento il contorno è continuo però possiamo tratteggiarlo se vogliamo grazie appunto alla proprietà dashis se noi l'apriamo clicchiamo sul triangolo a sinistra e l'apriamo vedete che al momento è vuota dobbiamo aggiungerle noi manualmente le proprietà all'interno di dashis cliccando su quel tasto più qui sulla destra adesso io clicco sul tasto più e subito all'interno di dashis si aggiunge la proprietà dash e offset e come vedete l'aspetto del contorno è cambiato non è più continuo ma appunto è tratteggiato innanzitutto abbassiamo il miter limit in questo caso perché questo angolo qui non lo vogliamo vedere riportiamolo al valore originale che era 4 benissimo se adesso io aumento questa proprietà qui dash vedete che aumenta la larghezza del trattino in questo caso aumentando diminuendo questo valore io aumento sia il tratteggio sia lo spazio intermedio fra i tratteggi se io invece volessi gestire indipendentemente la larghezza del tratteggio e lo spazio tra i tratteggi dovrei aggiungere una seconda proprietà all'interno di dashis che si chiama gap e per farlo basta che clicco di nuovo sul tasto più e si aggiunta adesso una seconda proprietà che si chiama gap se adesso io aumento questa proprietà come vedete il tratteggio rimane sempre della stessa larghezza ma lo spazio intermedio aumenta o diminuisce se diminuisco il valore gap se volessi un tratteggio sottile con un ampio intervallo dovrei fare così se invece volessi un breve intervallo magari è un largo tratteggio potrei fare così in questo caso mettiamo un valore normale benissimo la proprietà offset invece se l'aumento o diminuisce mi permette di far scorrere tutto quanto il contorno a destra o a sinistra adesso vediamo come cambia l'aspetto dei trattini se modifico line cap se io cambio line cap da watt cap a round cap non solo la testa e la coda del contorno diventano arrotondati ma anche i trattini in questo caso siccome sono molto ravvicinati non si vedono ma se aumento il gap come potete vedere adesso ogni trattino è arrotondato in testa e in coda anche lui e se a zero il valore di dash rimane soltanto la rotondità in testa e in coda e quindi ho dei cerchietti o dei pallini benissimo adesso chiudiamo le proprietà di questa linea quindi clicco sul triangolo e si chiude concentriamoci un attimo sull'ellipse per farvi vedere che queste proprietà dashes si possono attivare anche quando ho una forma chiusa come questa cioè se vado nella sezione stroke dell'ellisse e clicco il tasto più a fianco ad dashes anche sul contorno rotondo del cerchio compaiono i trattini e se clicco un'altra volta il tasto più anche qua c'è il gap quindi funziona anche sui tracciati chiusi e se per esempio in questo caso modifico il colore del bordo in modo che sia uguale al colore di riempimento quindi prendendo il contagocce a fianco alla palette cliccando sul rosso rapidamente potrei ottenere una ruota dentata va bene oppure potrei sfruttare queste proprietà del dashes in un altro modo ad esempio potrei spegnere il fill lasciare soltanto il contorno tratteggiato e aumentare lo spessore quindi la sezione stroke width aumentarla fino a che le parti interne non raggiungono il centro del cerchio e come vedete ho ottenuto rapidamente un gruppo di raggi rossi bene e con questo esempio concludiamo qua l'esplorazione dei parametri delle proprietà fill e stroke degli shape layer dalla prossima lezione prenderemo in considerazione tutte le restanti proprietà che troviamo in questa sezione add cioè tutte queste qua soprattutto quelle di questa zona qui in basso che sono molto molto interessanti benissimo allora la lezione finisce qua e ci vediamo alla prossima ciao